Archiviate le ferie estive, la politica riprende in pieno la sua attività a tutti i livelli istituzionali. A dire il vero, nel Molise la Giunta regionale è stata impegnata con l'emergenza terremoto anche a Ferragosto, ma i problemi storici di questa regione si accavallano e non trovano soluzione. Lavoro, sanità, infrastrutture, viabilità, dissesto idrogeologico, povertà e spopolamento avrebbero bisogno di soluzioni radicali, ma le risorse non ci sono e manca anche una visione strategica per affrontarli. Si naviga a vista e si rincorrono solo le diverse emergenze che di volta in volta affliggono i molisani, niente di più. Lo stesso Governo nazionale stenda a riconoscere le difficoltà che da qualche anno ormai hanno messo in ginocchio la regione più piccola d'Italia. Anzi, il Consiglio dei Ministri nicchia anche sulla soluzione delle questioni ordinarie, come la nomina del commissario ad acta per la sanità in sostituzione di Paolo Frattura e il riconoscimento dello stato di emergenza in favore dei comuni colpiti dal terremoto, che però, secondo il Presidente Donato Toma, potrebbe arrivare presto. Lo speriamo. Il Governo giallo-verde, inoltre, nel decreto mille proroghe ha inserito un articolo che elimina i contributi statali all'editoria per 70 emittenti locali e, tra queste, tutte le tv del Molise e delle piccole regioni. Una norma che, se approvata dal Parlamento, cancellerebbe in un colpo solo il diritto all'informazione, il pluralismo e centinaia di posti di lavoro in un settore già in crisi profonda che, nonostante tutto, garantisce il diritto costituzionale all'informazione. Contro il mille proroghe si sono già schierati l'assostamba e l'ordine dei giornalisti del Molise, nonché i rappresentanti locali nell'ordine nazionale Enzo Cimino e Cosimo Santimone. È in atto un tentativo di delegittimare l'intero assetto delle realtà televisive locali molisane. Nei fatti c'è una strategia tesa a sferrare un colpo mortale al nostro territorio, mettendo a rischio il diritto all'informazione e, con esso, posti di lavoro, pluralismo e rispetto di una regione intera, hanno dichiarato Cimino e Santimone. Il Molise, hanno concluso, non può assistere alla chiusura di aziende televisive per colpa di una graduatoria bugiarda che non tiene conto dei diritti della popolazione residente. Contro tale norma si terrà a Roma il prossimo 18 settembre una manifestazione già autorizzata dalla Questura sotto il Ministero dello Sviluppo Economico, alla quale parteciperanno editori, giornalisti e tecnici di tutte le emittenti polisane. In tale ed esolato contesto che coinvolge la nostra regione, dobbiamo registrare il silenzio assordante della delegazione parlamentare che sostiene la maggioranza di governo, ovvero dei senatori e deputati del Movimento 5 Stelle. A loro diciamo, battete un colpo se ci siete.